Nuovo appuntamento con le video news di ricerca dell'Osservatorio Astronomico di Palermo. In questo appuntamento analizzeremo un po' più nel dettaglio l'ultimo studio realizzato da Antonio Tutoni, ricercatore dell'Osservatorio e adesso in forza all'OIASF di Palermo, e realizzato anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo. In questo articolo viene presentato un modello magneto-idrodinamico tridimensionale che ha come scopo quello di connettere le anisotropie che sono presenti al momento dell'esposizione delle supernove con la disemogeneità del resto delle supernova che noi osserviamo oggi. Vediamo un po' di capire di cosa stiamo parlando. Le esplosioni di supernova sono degli eventi estremamente energetici che segnano alla fine la vita di stelle molto massive. Al termine della loro evoluzione, quando queste stelle si trovano nella fase di gigante rossa, all'interno di queste stelle vi è una tipica struttura a gusci. Nei gusci più esterni vengono prodotti gli elementi chimici più leggeri, mentre nelle regioni più interne e nel nucleo, elementi chimici più pesanti come il ferro e come il silicio. Queste stelle terminano la rivoluzione quindi come supernove a collasso del nucleo. Degli eventi estremamente complessi, governati da una fisica molto complicata e in più anche molto rari. Si conta che nella nostra galassia, ad esempio, si avvenga a malapena un'esposizione di supernova ogni 50 anni. Quindi questo rende particolarmente complicato dal punto di vista statistico lo studio di questi fenomeni. Noi siamo costretti necessariamente a guardare fuori alla nostra galassia e osservare l'esposizione di supernova nelle altre galassie. Come quella che vi mostro qui, una supernova osservata nella galassia NGC 2525 che si trova a 71 milioni di anni luce da noi. Come potete apprezzare da queste immagini, l'esposizione di supernova che osserviamo è un oggetto puntiforme. Non riusciamo quindi a risolvere spazialmente la geometria dell'esplosione o del resto di supernova che si va sviluppando. Il resto di supernova è una nebulosa creata dai gas che sono stati espulsi al momento dell'esplosione della supernova con velocità di migliaia o decina di migliaia di chilometri al secondo e che continuano ad espandersi. Questa per esempio è la Crab Nebula, creata da un'esplosione avvenuta nel 1054. Quest'immagine copre dieci anni e come vedete la nebulosa sta ancora espandendo a una velocità di circa 1500 chilometri al secondo. E potete anche apprezzare il fatto che la struttura geometrica di questo resto di supernova è assolutamente non omogeneo e non è simmetrico con diverse strutture di disomogeneità che potete anche vedere per esempio in K6, un altro resto di supernova molto famoso e molto studiato. Il problema è che queste disomogeneità possono in qualche modo darci informazioni sulle anisotropie presenti al momento dell'esplosione, però il resto di supernova deve avere due caratteristiche fondamentali. Deve essere molto vicino a noi, in molto da poterci permettere di poter risolvere le sue caratteristiche geometriche e deve essere anche molto giovane, in modo da conservare ancora quell'imprint delle anisotropie presenti al momento dell'esplosione. Quanti resti di supernova abbiamo che soddisfano questi criteri? Veramente pochi, a malappena una dozzina nella nostra galassia. Allora un altro approccio è quello di realizzare delle simulazioni in magneti idrodinamiche tridimensionali che riproducono il momento dell'esplosione o che partendo dal momento dell'esplosione riproducono l'espandersi e il formarsi del resto di supernova, come quelle appunto realizzate da Antonio Tutone e dal suo team di collaboratori. Questa è una delle simulazioni realizzate in questo studio. Questa simulazione in particolare tratta un'esplosione con simmetria sferica, quindi senza anisotropie particolari. Vi faccio notare l'aumento del tempo, il trascorrere del tempo e l'aumentare del pannello come indicato qui in alto. Quindi noi stiamo effettivamente seguendo l'espandersi dei gas espulsi al momento dell'esplosione. E questi gas, come potete apprezzare, conservano una simmetria sferica, proprio perché manca una qualche anisotropia di larga scala al momento dell'esplosione. Se invece inseriamo all'interno del nostro modello delle anisotropie, come quest'altro che vi mostro adesso, ecco che la simmetria sferica si rompe e i gas che vi via si vanno espandendo cominciano a presentare disomogeneità. Possono anche avvenire le inversioni chimiche, in cui praticamente gli elementi più pesanti che si trovano prima nelle regioni più interne e la stella esplosa, vengono osservati invece nelle regioni più esterne del resto di supernova, proprio a caso di queste anisotropie. Questi modelli quindi sono assolutamente importanti perché riescono a connettere la struttura geometrica del resto di supernova con la fisica e i fenomeni che avvengono al momento dell'esplosione della supernova stessa. Quindi per oggi è tutto e vi do la rivederci a presto con le news di ricerca dell'Osservatorio Astronomico di Palermo.